Qualcuno si fa sotto o se la fa sotto Collegamento con Goku Ragazzi non tiratevi indietro Con la forza delle sette sfere nessun avversario è imbattibile E voi cosa aspettate? Con lo zaino di Dragon Ball tenterete i veri Saiyans Se non te ne vai Da il tappeto Scopri tutte le altre fantastiche idee per la scuola Dragon Ball scopri la forza che c'è in te Inesclusiva da SNJ Si